Buonasera amici di Rinascimento Italia e ben ritrovati. Io sono Laura Tenebrosi ed assieme alla dottoressa Nicoletta Zucchello che saluto. Buonasera a tutti, bentornati nel nostro fantastico programma di medicine complementari. Esatto, andiamo al via a una nuova puntata relativa proprio alle medicine complementari. Come consuetudine abbiamo un ospite d'eccezione che oggi è il dottor Marco Vittori. Buonasera a tutti, grazie. Il dottor Vittori è un naturopata, laureato in geologia, studioso ed insegnante di spazzeria e astrodiagnosi da oltre 20 anni, cultore praticante della più conosciuta terapia della vibrazione detta anche Klang Therapy. Passiamo a ripresentare anche la nostra dottoressa Zucchello per chi non avesse seguito la puntata precedente. Ricordo che la dottoressa è una laureata in architettura, si definisce architetto dell'anima, è una naturopata, una reiki master, docente di floriterapia di bacche craniosacrale, ragazzi sono delle parole, presso la scuola di naturopatia Istituto di Venicina Globale di Limena in provincia di Padova, docente responsabile alla formazione della scuola di craniosacrale e rilascio mio fasciale La Blanche. Mi scuso se ho dovuto leggere ma avete dei curriculum su questo rispetto, portate pazienza. Ciao a Nicoletta perché visto che ci conosciamo da un po' di tempo. Ciao Marco, benvenuto, grazie di aver raccolto la mia richiesta di raccontarci un po' della tua storia. Grazie a voi, grazie a te. Sappiamo che la storia personale è quella che segna i nostri percorsi poi verso la conoscenza di pratiche tecniche evolutive, benessere e quindi ti lancio subito la prima domanda, prima che Laura me la tolga, ho dalla bocca che è ciao Marco, ma laureato in geologia? Sì, è una storia un po' strana, nel senso che mio papà particolarmente ha cercato di indirizzarmi agli studi medici, ma io avevo qualcosa che non mi andava, non lo so, apprezzavo la medicina, mi leggevo diversi articoli, però avevo la grande passione di paleontologia fondamentalmente. Quando mi sono ritrovato a finire il liceo ho avuto un attimo così di debolezza, mi sono iscritto a chimica, ma dopodiché al secondo anno ho deciso di iscrivermi al secondo anno di geologia perché alcuni esami me li davano buoni e ho cominciato questo percorso un po' sapendo che non avrei mai fatto il geologo, perché è un po' la situazione della geologia in Italia come altre facoltà è abbastanza così, abbastanza compromessa possiamo dire in un certo senso. Ricercatore neanche perché quando mi sono laureato comunque la mia relatrice di tesi ha pensato che io fossi l'ultimo a cui appunto portare la tesi e ahimè se n'è andata insieme al marito per una disgrazia, è ossido di carbonio tradotto in termini tecnici, per cui a un certo punto io ho deciso di andare prima di tutto a fare l'informatore scientifico del farmaco che ho fatto per sette anni. Poi ho avuto già lì dei dubbi, perplessità e quant'altro, pari senza che entriamo nei particolari e quindi alla fine del settegno ho deciso di chiudere Baracca e Burattini, di intraprendere quella che poi in realtà era una storia iniziata tanto tempo fa assieme alla paleontologia perché sono stato un assiduo lettore di Peter Colosimo dei tempi di Non è terrestre, Fratelli dell'infinito e Polvere d'inferno che sono i titoli che mi ricordo e soprattutto Polvere d'inferno che forse è il peggiore dei libri che ha scritto Peter Colosimo, parlava degli alchimisti e ne parlava quasi al passato, le ultime tracce intorno al 1800, a 12 anni non avevo questa grande capacità di collegare le cose, di capire fra le righe. Poi come succede molto spesso ho incontrato poi dei personaggi anche e soprattutto nell'ambito della naturopatia, ho seguito non essendo allievo diretto la dottoressa Mercedes De Otto Salimei che era molto conosciuta in Friuli a Roma, mi dicono, naturopata, teosofa e altre cose. Dopodiché appunto io sono nel 1994, ho incontrato un personaggio particolare, un italiano naturalizzato tedesco, era nato ad Averara, provincia di Bergamo, nell'alta Val Bambana, ma a sei anni si era trasferito con tutta la famiglia in Germania e diciamo era più tedesco che italiano, il quale dicendo scarzosamente non tutti gli italiani apriranno pizzerie e gelaterie, acquistò un vecchio laboratorio sul Danubio, tra l'altro devastato dalle piene del Danubio stesso e lo ha rimesso in funzione. Questo era il laboratorio di Alexander von Bernus che qua in Italia dice poco, a parte un libro delle edizioni mediterranee, ma che diciamo in Germania dice moltissimo perché pur essendo molto giovane era amico di Thomas Mann, Hermann Hess, quindi personagini mica tanto da ridere, era lui stesso un poeta, era un biochimico, alchimista, racconta di storie che diciamo lui era parecchio avanti e nel 1965 aveva dato incarico a sua sorella che è morta a 103 anni, un'attrice di cinema muto tedesco, una bellissima donna anche da anziana, alla seconda visita di questo personaggio, si chiamava Marino, gli ha praticamente detto mio fratello in sogno mi ha detto che tu sei la rede e gli ha dato tutto il faldone, questo che faceva tutt'altro nella vita, si dedicava soprattutto alla tv, anche se una tv particolare, tv privata, vendette tutto nel giro di poco tempo, acquistò dei terreni in Alta Val Brembana dove era vissuto, ha ricostruito addirittura una caserma e ha fondato praticamente un orto biodinamico con la raccolta poi delle piante spontanee intorno e ha cominciato a rifornire le piante di questo laboratorio di nuovo nato che appunto ha la sua sede operativa in Germania a Donenmünster è quella agricola e di preparazione di una cosmetica fantastica che non viene venduta in Italia ma sono cose strane, appunto questo luogo dove poi fanno riunioni, gli ha il practiker, i medici, soprattutto tedeschi, italiani sono pochi a dire la verità e lì dimmi. Stavo pensando, hai accennato al volo o qualcosa, però laboratorio alchemico, piante, puoi entrare un po' cortesemente, amorevolmente ma… No, io siccome ci parlo di tutti i giorni praticamente, anche dal verduraio, faccio un verduraio particolare ovviamente. Perché sai, i nostri ascoltatori agganciano sempre qualcosa della serie, ma questo cosa serve, questo cosa si possa fare. Certo. Quindi niente, però se ci racconti un po' meglio sarai contenta. Allora, prima di tutto si dovrebbe più parlare di spagiria che di alchimia. L'alchimia è un percorso particolare. Bravo, grazie. Che non pensino che facciamo chissà che cosa. No, 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 non è niente di particolare, è un laboratorio più spinto e ha a che fare con la metallurgia, quindi ha altre condizioni. Diciamo che la spagiria è un'arte che utilizza gli individui di natura, quindi possono essere minerali, animali, vegetali, nel nostro caso ormai sono prevalentemente vegetali, qualche minerale e vengono preparati, trattati per mantenere il più possibile la forza vitale dell'individuo. Ciò vuol dire che, a seconda poi del, come dire, appunto essendo un'arte di quello che è la propria esperienza e convinzione, in linea di principio si cerca di raccogliere la pianta che abbia la sua massima vitalità in quella parte che io raccolgo. Faccio un esempio abbastanza banale. Se io voglio raccogliere le foglie di ortica, le devo raccogliere quando la pianta non è al massimo della sua forza, ma un po' prima. Perché un po' prima? Perché ancora non è espresso tutte le potenzialità. c'è un termine molto particolare che dice la luna quando è piena è già calante, quindi quando il fiore è già aperto è già finito. Io devo prenderlo prima, perché addirittura farlo sbocciare dentro una tintura, dentro un olio, eccetera. Questo ovviamente è una, fra virgolette, una complicazione in più, perché c'è un attimo per cui questa forza è al massimo per quello che serve a me o serve a chi lo prepara. Poi ci sono altre condizioni particolari che riguardano, per esempio, i tempi di cui alcuni, diciamo in linea di principio, tutti noi teniamo conto della luna crescente e della raccolta in linea di principio, poi ci sono le eccezioni, tra i due equinozi. Quindi le piante aeree che vengono raccolte vengono raccolte tra i due equinozi. Ci sono delle eccezioni ovviamente, perché tutte le piante, per esempio come l'eleboro, eccetera, fioriscono prima dell'equinozio di primavera e vanno raccolte evidentemente in quel momento lì. Poi se io voglio raccogliere invece la parte sottostante della piante, quindi il fittone, la radice, il tubero, quello che è, dovrò raccoglierlo passato l'equinozio di autunno, perché la forza vitale della pianta lascia la parte aerea visibile e si concentra all'interno del tubero, della radice. Addirittura, e questo è una raffinatezza che qualcuno mette in atto, bisognerebbe raccoglierlo a mezzanotte, perché anche il giorno che è la rappresentazione dell'anno, a quel punto si trova il sole dall'altra parte e ovviamente nell'altro emisfero e nella nostra tradizione si dice che cuoce ciò che è nascosto, perché dall'altra parte. Bello, molto interessante questa. Certamente, sì sì. Magari ti conosco da tanto tempo, a volte riesci ancora a stupirmi. Con effetti speciali, no, beh ma è un'arte, quindi capisci bene che l'arte ha, dire, come quando uno guarda un'opera di Raffaello, di Michelangelo, va a vedere dei particolari, adesso non ho scoperto dal punto di vista, per esempio, è un'ipotesi ma sembra molto reale, la fisiologia della creazione in cui addirittura la gola di Dio rappresenta una parte del cervello, cioè una cosa assolutamente incredibile. Poi, non so, Leonardo da Vinci con i suoi arcani occulti, anche nella, addirittura un brano musicale nell'ultima cena. Sono delle cose che ovviamente sono quella sfumatura che viene portata dall'artista, ma non messa in maniera sfacciata palesemente. Io non posso dire che una tintura, per esempio, di un preparatore toscano di mia conoscenza è migliore di quella di un siciliano sempre di mia conoscenza, perché sono due artisti diversi, quindi, come dire, gli strumenti sono diversi pur essendo uguale alla pianta, che anche quello è un termine molto relativo, perché la pianta che cresce in Toscana non ha l'energia di quella che cresce in Sicilia sotto l'Etna, ma non che è più buona uno, più buona l'altra. Sono due cose diverse, è come, non so, il giallo, il giallo nella tempera, ce ne sono una marea di gialli, quello è il giallo migliore, non esiste, è quello che tu sai utilizzare per costruire questa struttura. La struttura è dare alla pianta, poi questa è un'altra cosa importante, un tempo di vita superiore a quella che avrebbe nella sua forma originale, cioè una pianta annuale sappiamo che la trovo, adesso comincerà a esserci, per esempio, l'ortica, va bene, e dopo fiorirà, quando fiorisce non è più così importante per certi lavori e quindi bisogna prenderla prima. Dopo l'ortica resteranno i stecchetti, che classicamente avrà un po' di riproduzione ancora, poi verso la fine della stagione si troveranno ovviamente solamente i fusti della pianta. Ecco, noi attraverso questa preparazione, ed è scondaria, non è primaria questa intenzione, diamo un tempo molto più lungo di vita a queste piante. Perché dico tempo di vita? Perché in realtà non è che una volta che è messo nella boccettina questi preparati spagirici rimangono fermi, continuano a non evolversi, addirittura si evolvono talmente bene che spariscono, nel senso che diventano talmente sottili che passano il vetro. La quantistica ci ha detto che non esiste nessuna materia impermeabile completamente, tutti sono porosi anche nei minimi, come dire, microporosi, porosi quantisticamente, per cui la materia che diventa sottile, va bene, riesce a passare persino i pori del vetro e a ritornare, essendo spirito, allo spirito universale. Questo è il discorso. Quindi tutte le operazioni, dimmi Laura. Volevo fare una domanda anche se, perché altrimenti me la dimentico, proprio per il discorso, stavi parlando prima di piante aeree, adesso sei tornata appunto sull'ortica. Io ho capito che oltre alla pianta aerea si può utilizzare per questa sfaggeria anche il bulbo, la parte sottostante. Hanno caratteristiche diverse, poi le preparazioni che vengono fatte servono per cose differenti, oppure comunque è sempre la stessa pianta che però viene raccolta in momenti differenti per poterla utilizzare nella sua completezza. Non so se mi sono spiegata. No, no, ti sei spiegata benissimo e hai colto un aspetto molto particolare, molto profondo. Cioè l'uomo è una pianta che ha le radici verso il cielo e l'apparato riproduttivo verso terra. Cioè a dire che se io prendo il bulbo, è vero che il contenuto biochimico grosso modo non è sempre vero, ma in linea di principio è praticamente abbastanza simile al resto della pianta. Poi ci sono dei particolari, adesso questo in generale. Ma soprattutto il bulbo rappresenta la parte più nobile del cervello. Cioè quando noi togliamo la neocortece e lasciamo proprio il sistema nervoso come sulle tavole anatomiche, vediamo che assomigliano delle radici e se facciamo questa analogia, proseguiamo, troveremo tutta una serie di analogie strutturali rispetto alla pianta, per cui non è indifferente usare la corteccia o usare la foglia, o usare il frutto, o usare il seme. Da un punto di vista biochimico, dico grosso modo, potrebbero esserci delle similitudini, ma soprattutto è un principio di forma e di informazione. Così mentre la pianta con le radici assume l'energia del fuoco terrestre, quello che proviene dal centro della terra, noi prendiamo l'energia dall'universo, da un centro, non importa quale, ma è un centro. Poi se lo vogliamo chiamare Dio è un problema nostro, ma prendiamo da questo punto qua, il punto di origine. È la stessa cosa, solo che ovviamente cosa succede? Perché la pianta fa questo? Perché è il mediatore tra il mondo minerale e il mondo animale, noi non potremmo vivere rosicchiando dei sassi, quindi il contenuto specifico minerale viene reso disponibile dal metabolismo della pianta che opera ovviamente una trasformazione del terreno stesso ed è questa un'altra informazione di analogia, per cui per esempio se vado a vedere l'ortica che abbiamo visto, le ortiche dove si trovano? Vicino all'etamai. Perché? Perché c'è una quantità di nitrati molto elevata dovute allo sterco dei ruminanti, quindi in qualche maniera rielabora questa sostanza. Io posso utilizzare questa capacità dell'ortica per, per esempio, aiutare l'individuo a metabolizzare meglio le proteine, gli aminoacidi, perché magari ha una condizione di difficoltà o momentanea o cronica o secondaria di qualche altra patologia e lo posso utilizzare in questa maniera. Quindi molto, se vogliamo, fra virgolette allopaticamente, ma attenzione, non è allopatia assolutamente, però tanto per avvicinarsi e dire che non è che l'allopatia sia, come dire, sbagliata e che ha preso una fetta e ha detto quella importante e tutto il resto non serve a niente. Non è così. Siccome siamo integrati nella natura, noi stessi dovremmo essere integrati con noi stessi, ma ci mettiamo una vita, non si sa se ci riusciamo, ma almeno ci tentiamo, abbiamo a disposizione questa modalità di preparazione, ribadisco, delle piante, minerali e animali in discorso è abbastanza analogo, cambiano le modalità di laboratorio, ma mi permette proprio di portare quelle informazioni dell'ortica, va bene, che non è solamente un depurativo del sangue, non è solamente un favorente alla fissazione del ferro, ma è anche, per esempio, una pianta che stimola l'aspetto anche riproduttivo. Tant'è vero che c'è un detto molto simpatico che dice buttare la tonaca alle ortiche, detta di un frate che lascia per la vita monastica, per una vita monastica, anche quella, ma con una famiglia, perché le due cose, volendo, non si possono, non si devono separare, non è che una è meglio e l'altra non è. Fermati un attimo che ho una domanda. Vai. Toccava il tempo? Lasciami il tempo. Volevo domandarti una cosa, penso che sia una domanda che anche i nostri ascoltatori, coloro che ci seguono, possono aver in qualche modo catturato. Hai parlato dell'area del fittone, quindi delle radici, dell'area della parte riproduttiva, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è l'utilizzo implantatota. Sì. Rispetto all'utilizzo invece così, diciamo… Più raffinato. Più raffinato, ecco. Quindi la fitoterapia normalmente mi va di più implantatota rispetto alla spageria. Sì. Scusate, plantatota che cosa vuol dire? Tutta la pianta. Ok, cioè la totalità della pianta. Tutta la totalità della pianta. Allora, piccola riserva, quasi mai… plantatota poche volte si usa la radice, è quasi sempre la parte più aerea in realtà, però c'è qualcuno che effettivamente fa questa operazione qua. Sì, a questo punto è curioso, ma viene fuori un complesso. Cioè, noi consideriamo l'individuo pianta. È vero che è un individuo pianta, ma anche noi, come dire, siamo dei pluricellulari. Siamo un ameba. Siamo tante amebe con varie funzioni. Quindi è un'altra modalità che è interessante, nel senso che in pratica attraverso diverse operazioni di lavoro, perché ovviamente hanno tempi diversi, perché se io prendo la parte aerea, sì, posso anche prendere la radice quando la pianta è vitale sopra, ma perdo delle qualità. Da, quindi devo avere una grande pazienza, prendere la pianta aerea, magari prendere i fiori in un secondo tempo, prendere i semi ancora in un terzo tempo e infine prendere in un quarto, quinto tempo, perché bisogna vedere quando. Va bene, io prenderò la radice, il fittone, quello che è. Lì lavoro separatamente e poi li riunisco attraverso un'operazione particolare che si chiama circolazione, attraverso dei vetri particolari che si usano in spagiria e anche in alchimia, che sono una parte che viene chiamata cucurbita perché la parte sotto assomiglia ha una zucca, le cucurbitacee sono nella famiglia legata alla zucca e sopra viene messo un cosiddetto elmo cieco che è simile al cranio dell'uomo, proprio con il collo. Che cosa rappresenta questo? Rappresenta nient'altro che il cielo sopra di noi che è curvo e imita il ciclo dell'acqua, cioè l'acqua evapora, sale, si condensa e piove giù. Ma guarda caso, quando piove giù non è la stessa acqua dal punto di vista esperienziale che è salita, perché ha ricevuto delle informazioni di carattere elettromagnetico senza entrare in altri aspetti che ci porterebbero fuori, la quale venendo giù porta questa informazione al terreno e guarda caso ancora adesso la migliore acqua con cui tu puoi bagnare il tuo orto, perché ormai l'agricoltura si è già giocata da tempo, almeno salvo qualche eccezione, è l'acqua di pioggia, perché è un'acqua imparata che porta a una vibrazione particolare e quindi imitando questa salire e scendere, succede che le varie parti separate, messe in questa cucurbita con l'elmo cieco, a un certo punto si amalgama e torna l'individuo in toto. Vi posso dire che commercialmente sarebbe un disastro proporre una roba del genere perché costerebbe uno spavento, quindi sono quelle cose che uno se vuole se le può preparare da solo, senza dover fare proprio un grande laboratorio, un piccolo laboratorio, una spesa iniziale non elevatissima, un po' di gas per fare le distillazioni magari di un certo tipo, si possono fare addirittura i vini di pianta, cioè è veramente una sfumatura, come posso dire, varia su questa cosa. È chiaro che a questo punto se io creo questo individuo, cioè gli do questa nuova forma, avrò un individuo che avrà delle caratteristiche particolari. Uno dei maestri che io non ho conosciuto, ma mi hanno influenzato tantissimo, per 15 giorni non l'ho conosciuto, che era un ingegnere milanese, adesso diciamo che pochi lo conoscono, lui si era attraverso gli anni, addirittura preparato qualcosa come, saranno stati 150 litri di tintura di iperico, che teneva in due vasi in terracotta della stessa altezza e dimensione sua, qua entriamo in un ambito completamente diverso, ma Nicoletta ha già capito dove si va ad apparare, ma l'ha fatto per se stesso e l'aveva dentro lo studio di una casa, una villa che era nel Comasco, con una grandissima vetrata che andava verso il tramonto. Lui era un egittologo straordinario, anche più di un egittologo, ma diciamo che va bene così un egittologo e quindi faceva un'operazione che li riguardava nella sua evoluzione. Come l'aveva fatto? Questa è la domanda, come cavolo aveva scelto l'iperico? Perché lui conosceva l'astrologia, ma non l'astrologia da rotocalco, un'astrologia un po' particolare che non si trova così facilmente in Occidente, si trova però in Oriente, soprattutto in India, che un po' assomiglia all'astrologia vedica, come si chiama, ed è un'astrologia basata su visioni estremamente pratiche che sono elettromagnetiche, che è completamente diversa dall'astrologia che viene fatta normalmente. C'è tutta una serie di caratteristiche, intanto non si dovrebbe chiamare tema natale, ma tema del primo respiro. Perché? Perché è quello il momento in cui... Sei passato, scusami Marco, io capisco, se ci dai una pausa tra una cosa e l'altra... Sì, è perché è legata in realtà, perché quando si va a raccogliere la pianta si guarda il tema natale anche. Potremmo anche farti le domande, vabbè, facciamo così, io e lei facciamo la nanna. Ah sai cosa, io mi chiedevo cosa fosse l'iberico, perché io conosco il prosciutto, il prosciutto iberico. No, iperico con la P. Sono d'accordo con te sull'iberico. No, iperico è una pianta che dà una grandissima soddisfazione, perché è una pianta che ha i fiori gialli e quando la raccogli ti lascia le dita viola. Ma pensa... Dicela in tintura o le olita. Le olita, per regalo. E qual è la funzione dell'iperico? Allora, l'iperico è una pianta fondamentalmente epatica. È dedicata, si dice, come archetipo a Giove. Giove è il re degli dèi, è quello che anche ha una capacità procreativa particolare. Sì, si dice il padre di tutti gli dèi, tra l'altro. Padre di tutti gli dèi, ma è in analogia, e di nuovo arriviamo in analogia umana, rappresenta l'ipofisi, che è il re degli dèi del sistema ormonale. Quasi tutto, poi in realtà c'è l'eccezione, ma che è funzionale rispetto anche al mito addirittura. Quindi, a un certo punto, se io voglio raccogliere l'iperico, non dico come ha fatto il dottore Angelini, perché sarebbe una presunzione che non conosco tutto quello che conosceva lui. Andrò a raccogliere... Il dottore Angelini... Era questo ingegnere... Non volevo far nome così, ma insomma... È l'ingegnere di cui parlavo prima, questo è gitologo, alchimista... Sì, è anche di più, diciamo, di questo. Una persona poi molto discreta, molto particolare. Ecco, ha lasciato diversi ispirati dalla sua opera, di diversa natura, tuttora viventi. L'iperico, per raccogliere al massimo grado la sua forza, come nel caso dell'oleolito che ha mostrato Nicoletta, andrebbe raccolto il bocciolo nell'ora di Giove, perché cos'è l'ora di Giove? La giornata si scansiona secondo... È esperienziale, ma in questo momento non sarebbe spiegabile. Si scansiona secondo i sette pianeti visibili. Ma non sono esattamente i sette pianeti visibili, sono più vicini alle nostre ghiandole endocrine, sempre con quel rapporto di cielo e terra. Ovvero, l'epifisi corrisponde per l'analogia a Saturno, o Kronos, se lo diciamo in Grecia. L'ipofisi, che è il re degli dei del sistema ormonale, a Giove o Zeus. La tiroide, che serve per dare tono e per favorire la contrazione del pericardio, cioè del muscolo cardiaco, è legata a Marte. Basta pensare quando uno è ipertiroideo, ha gli occhi fuori dalle orbite, tendenzialmente non è pacifico. Tanto per dare una concretezza così. Il cuore, che è una ghiandola endocrina, noi abbiamo scoperto con la medicina 15 anni fa, una neuroendocrina, già lo definivano nell'antichità come il punto centrale e come una ghiandola endocrina. Poi abbiamo i surreni, che sono legati a Venere, e anche lì ci sono tutta una serie di analogie particolari, che non è una cosa piovuta dal cielo, punto e basta. Poi abbiamo il pancreas endocrino, che è sotto mercurio, e questo vale la pena perdere un attimo di tempo, perché il diabete è una malattia furbetta. Mercurio è sempre stato il dio bambino furbetto, che ha un po' cercato di fregare Apollo, ma si fregava più lui. E poi a metà tra il cielo e la terra, c'è questa visione, non è perfettamente né in cielo né in terra. Ecco che, per esempio, il diabete è una di quelle patologie che ha dei sintomi correlati, prima di diventare macroscopicamente visibile, abbastanza banale, perché c'è un po' di mal di testa, un po' di astenia, un po' di gambe pesanti, non si può definire specifico solamente di quella patologia. Quando poi esplode, manifesta quello che è il problema fondamentale, che è quello della incapacità dell'utilizzo del glucosio, quindi con tutte le disfunzioni che ci sono. Poi, come ultimo apparato, l'apparato riproduttivo, sia maschile che femminile, Ntoto, che è sotto l'egida della luna. E anche qua è curioso come, normalmente, anche per la medicina ufficiale, il ciclo mestruale sia di 28 giorni, con una fase estrogenica che dura 14, dalla luna nera alla luna piena, e poi una fase di luna calante, che è quella dove, se avviene la fecondazione, c'è l'anidamento dell'ovulo fecondato nell'endometrio femminile. Ecco, questo grosso modo. Noi si tiene conto di questi tempi, va bene, che curiosamente, tra l'altro, generano la settimana. Nessuno di noi, tutti siamo abituati a dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, ma nessuno di noi sa perché c'è questa sequenza qua, che non fa riferimento né ai pianeti, come neanche la sequenza, diciamo, delle ghiandole endocrine. In realtà è curiosa questa cosa qua, perché se il 7, sono 7 i pianeti, nel 24, va bene, non dà esattamente, non è 21 che ci sta tre volte esatte, avanza sempre qualcosa. Questo, partendo da domenico, o da sabato, o da venerdì, a seconda della propria religione, non è importante questo, all'alba, perché la giornata inizia all'alba come l'anno inizia l'equinozio, e andando avanti con questa, è una cosa matematica, andando con questa sequenza, si scopre che il lunedì all'alba è l'ora della luna, va bene, martedì è l'ora di Marte, è mercoledì, e per cui in realtà il giorno prende il nome della prima ora che compare in quel momento quando sorge il sole. Vedo che l'ora è ormai di Steinbai. Io stavo cercando di fare un ponte tra tutto quello che hai detto, perché effettivamente... Eh beh, baciobà. Io per esempio sono partita dalla spagiria, dico bene, che è questa pratica che collega il corpo umano alla terra tramite l'utilizzo delle piante che riescono a metabolizzare, io lo dico in maniera molto... per quello che ho capito da profana, aiutano a metabolizzare i metalli. Allora, la pianta è quella che ci rende digeribili il mondo minerale, quindi è un mediatore in questo senso. Esatto, un mediatore fra... Certo. Come arriviamo al discorso della... quella che... l'astrodiagnosi, perché suppongo che tu parlando dei pianeti magari abbia voluto parlare di astrodiagnosi, non sono io che l'ho intesa male. No, no, no. Guarda, le due cose sono compenetrate. Ti spiego com'è la situazione in questo caso. Quando uno guarda il proprio tema natale in senso astrodiagnostico, ha delle informazioni sulle sue modalità di movimento. Non esistono previsioni o roba del genere. Quello non mi interessa, non interessa la spageria. Però mi dà delle informazioni su quelle che sono le carenze energetiche di queste sette funzioni che sono rappresentate nello zodiaco, che non significa che i pianeti direttamente operano un'informazione sul cielo. E semplicemente per un fatto sincronico, come direbbe Jung, va bene, così in alto come in basso. Cioè, quello che avviene in cielo avviene contemporaneamente sulla Terra con altre modalità. Perché i pianeti sono una cosa che stanno tanto lontano, gli unici due che ci influenzano sono i due luminari, cioè il Sole e la Luna, tutti gli altri in influenza materiale e relativa. ci interessa perché? Perché siccome siamo in un sistema armonico, va bene, quindi deve per forza essere da vita per potersi integrare con il resto, deve essere in sintonia con tutto quello che c'è intorno. Allora, gli antichi cosa hanno fatto? Hanno studiato questi rapporti armonici, tant'è vero che, guarda caso, gli alchimisti anche relativamente moderni sono anche musicisti. Dimmi. Adesso ti fermo, Marco, scusa, perché un fiume in piena ti adoro, siamo amici, però sono abituata a delle piene mostruose. Queste piene, esatto, mostruose. Però adesso hai detto una parolina, immagino che sia un punto di domanda che è venuto anche a qualcuno che ci sta guardando. Sai quella roba che è lì dietro, se ti vedo, dietro di te. Allora. Ti conosco bene. Allora. A chi non sa cosa sono, io li conosco perfettamente. Allora, questo è un gonghetto che in realtà è ormai storico, non è di grandissima qualità, ma lo tengo lì perché è un po' affezionato. È il mio primo cucciolo, possiamo definirlo, dai, ecco. È il mio primo peluche in un certo senso. Queste strutture di cui si vede anche qua un'altra, va bene, in realtà sono dei portagong che provengono dall'isola di Bali, sono in tech, fatti a mano, senza né morse né niente, non so come facessero perché non si fanno più, che io ho acquistato dai figli del mio maestro di canto armonico e di clang therapy che purtroppo per noi, per lui probabilmente era una cosa di cui era già pronto e ce l'ha anche detto, nel 2017 ci ha lasciati e a un certo punto aveva una quantità di strumenti pazzesca, io purtroppo non avevo altrettanta quantità di denaro perché probabilmente avrei speso moltissimo per prendermi degli strumenti ma ho comprato queste strutture qua per tenere una cosa che magari vediamo se riesco a farla vedere e se vedete dietro c'è io vedo i qua i vestiti però no, non è i vestiti è la coperta che uso normalmente è una tavola non si vede altro ma sotto c'è un'arpa a 63 corde tirate tutte la stessa nota uno dice perché tirate tutte la stessa nota perché succede in fisica una cosa particolare che non sono mai uguali perfettamente ma quel tanto che basta per attenuare la fondamentale cioè il suono principale quello che diciamo ci permette di modulare le parole ma liberare quelli che sono gli armonici gli armonici dello strumento ma anche della persona che sono che si mette sopra è un trattamento che a molti farà sorridere questa affermazione ma viene praticata io sono andato a fare tirocinio in una clinica oncologica in Svizzera non in Italia chiaramente e prego quindi ho deviato un attimo da quello che ci stavi raccontando ma hai parlato di suono e si vede il gong lì dietro e quindi ritornando un attimo giusto vorrei che cercassimo di dare adesso in mezzo a tutto questo appunto fiume in piena di informazioni riesci a darci Marco un riassunto chiamalo come vuoi della coesione e compenetrazione delle varie cose di cui ci hai parlato certo lo fai per me che come solito sono curiosa di vedere stavolta come me lo racconti certo e lo fai per i nostri ascoltatori che immagino ve lo dico già vorranno approfondire un sacco di cose di quelle che hai detto aspetteremo le loro richieste su facebook no cosa scriveranno se scrive voglio questo quello le aspetto poi le guarderò con calma e magari tornerai a incontrarci e volentieri nel momento in cui lo farai attaccato a quel gong cioè a quel trespo chiedo scusa per il nome io però vorrei vedere questa creatura con la quale hai fatto vibrare un'intera doppia ballata ma non all'alba e la mia domanda era all'aurora allora adesso in chiusura di questo nostro incontro un riassunto di queste cose e poi spieghi l'aurora per favore rispetto a quello che chiamiamo l'incarnazione appunto è perché un po' di queste cose posso permettermi va benissimo allora guarda molto in sintesi è soprattutto c'è un tempo per entrare un tempo per uscire come rispose Cristo Pietro il giorno delle palme quando alla mattina lo voleva nominare e il pomeriggio ritornò dentro cioè il tempo è fondamentale sia in terapia terapia spagilica sia nella raccolta delle piante è chiaro che all'inizio è importante iniziare però se uno riesce comprendere questa cosa qua ha già fatto un percorso sia come terapeuta ma anche chi diciamo riceve questi rimedi io quando trovo un certo tipo di sensibilità dico proprio di prendere in una determinata ora che non è sempre la stessa del giorno ma varia secondo i giorni della settimana con quello che ho detto prima l'altro principio fondamentale è l'atteggiamento che si deve avere nei confronti della pianta in fin dei conti noi togliamo la vita a questa pianta perché non è detto che le cose vadano bene diventerà una super tintura spagirica capace di fare chissà che cosa però come dire in qualche maniera bisogna che uno si metta in discussione che abbia la mente pulita e lo spirito anche va bene quindi che non abbia secondi fini non diventa uno se fassi sinceramente questa 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 arte qua non diventerà mai ricco quindi se lo tolgo dalla testa come tante altre discipline io parlo della mia l'altro aspetto importante è che non si dà nient'altro come una specie di ricordo di ciò che in qualche maniera è stato dato ma è stato perso hai detto la parola magica non mi sono accorto non importa va bene in mezzo al tuo fiume sei riuscito a citarmi persino Aristotele imparare insomma qualcosina dai penso di aver detto abbastanza insomma come sintetico guarda no no dico questo su questo aspetto sintetico avevi ancora un po' di tempo no se vuoi mi dilungo un po' ti dico fondamentalmente questo dottor dottor angelini quello di prima diceva quando si è fatto portare degli olioliti di iperico fatti da ciascuno degli allievi presenti sta tirando fuori il certo di Iside lo vedo al colore e la bibbia anche se non è un libro eccelso poi fra parentesi ma porta dentro delle informazioni straordinarie ho sistemato il set i due set di Iside e il volo dei set e Ibis che si vede che è arancione ormai è un po' come allora sembra una battuta questa qua l'avete visto sì quando tu entri in relazione con la pianta spontanea quindi non coltivata ti capita che quando passi con la macchina quindi a una velocità che devi guardare guardi la strada con la coda dell'occhio io mi accorgo delle piante se sono pronte o no in certe zone poi non le vado a raccogliere proprio in prossimità della strada ma sì è come se mi risalutassero è così per cui quando eccolo qua quando a un certo punto a questo punto io do quel rimedio io do quel rimedio a quella persona non sto dando semplicemente una cozzaglia biochimica va bene ma sto dando qualcosa anche di me stesso perché sono entrato in relazione con quella pianta quella pianta racconterà anche di me alla persona questo è forse l'arcano il segreto fondamentale e questo la memoria spagirica ah eccolo qua vegetale minerale certo medicina questa è la medicina spagirica vegetale minerale la traduzione di Dalla Zonca e di Patrick Riviere eccolo là la copertina non la riconosce ti faccio pubblicità non è vero no no perché non io non ho scritto tutta questa roba qua non l'ho scritta l'ha scritta il dottor Angelino non lo mostro ma ti mostro una cosa che ti farà ti farà venire la giornata eh lo so l'avevo già intuita il manuale di astrologia egizia allora anche per correttezza non correte se non conoscete veramente bene l'astrologia non datelo a comprare perché vi sconvolge tutte le visioni anche perché lo studio dei geroglifici è uno studio molto particolare Marco in mano secondo le tavolette per favore le mie tavolette allora mi dispiace perché ci ascolta ma no ma va bene così insomma è un io credo che sia più importante come dire che uno legga perché ce l'ho l'entusiasmo con cui dopo praticamente 26 anni di ancora sono innamorato ecco diciamo questa cosa qua io sono ancora innamorato di questo che sto facendo è infatti e quindi vale la pena capire questa cosa fondamentalmente al di là dei concetti che in un'ora capite bene che posso raccontarvi la storia dell'orso più di tanto ma è quello che è la forza che ha la conoscenza la come posso dire la complicità ecco la complicità che esiste fra la natura e l'uomo quando l'uomo non arriva nella natura con la modalità di imporsi tanto non si impone lo stesso quindi inutile che stiamo eliminarla lo stiamo vedendo ma entra con l'umiltà del humus guarda caso deriva il terreno va bene quindi legato alla terra legato al cielo perché lui ha una dignità superiore ma non perché sovrasti gli altri ma perché sia mediatore di questa energia noi abbiamo la colonna vertebrale verticale che è l'asse verticale della croce ma quello orizzontale sono gli animali ho stroncato la Nicoletta posso dire Marco per stroncarmi ma questa è la realtà noi non abbiamo ci manca il rispetto di capire che la croce su cui anche chi è cristianamente è stato crocefisso Gesù ma in realtà Osiride è stato sparpagliato in 14 parti nella croce delle direzioni quindi nord sud est o ovest ha questo significato perché noi la natura sono le schegge del grande uomo del macrantropo greco del purusha indiano del adamah della tradizione ebraica mi sono spinto su un terreno che non è mio ma so di diciamo di non aver detto una cosa quindi è proprio la convibrazione qua torniamo di nuovo al suono con la natura la malattia è una distonia è una distonia che va riorientata la guarigione è un fatto personale e questa è la cosa importante nessuno guarisce nessuno va bene tant'è vero che anche il Cristo all'amoreissa ha detto chi è che mi ha toccato è la tua fede che ti ha salvato gli dice ok quindi noi siamo solo dei mediatori scusate dei mediatori di questo di questa possibilità di ripristinare il rapporto dell'uomo con la natura perfetto benissimo basta basta così perché credo che i nostri ascoltatori abbiano un tourbillon travolti da una tempesta di informazioni io ti ringrazio tantissimo io ringrazio voi tutti hanno capito che siamo amici ci conosciamo benissimo e quindi va bene non abbiamo svelato niente di nuovo che quindi possiamo anche giocarci con le nostre realtà ringrazio tantissimo invece la nostra Laura la quale ha ascoltato con un'attenzione che i miei e forse i tuoi studenti deve essere una volta assolutamente io ci provo perché io sono una profana quindi vi ascolto sempre cercando di stare attentissima proprio per per capire e cerco anche di sentire di pancia non solo col cervello e mi è piaciuto a parte che la parte finale in cui hai fatto questo sunto e io ho sentito ti ho sentito più libero più sciolto di 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 farti travolgere davvero dalla passione della di quello che tu stai facendo e io l'ho percepita tantissimo cioè veramente sono rimasta senza parole a me piace molto anche parlare di queste del discorso insomma non so come dire assonanze non so fra la croce il simbolo della croce che vuol dire cioè i punti cardinali come hai spiegato il discorso della colonna vertebrale il perché assomiglia all'asta della croce in vertica cioè queste queste cose a me appassionano tantissimo e penso che ci sia davvero tanto da scoprire anche all'interno delle religioni che nascondono magari pensieri inizialmente pagani legati alla terra legati alle nostre origini mi sembra un discorso veramente super interessante che si dovrebbe approfondire ecco io ti ringrazio perché mi hai fatto percepire veramente qualcosa di molto bello molto profondo grazie grazie a voi e del resto sai c'è poco da fare quando diciamo il tempo è giusto l'acqua sgorga quindi direi che tutti noi abbiamo una grande passione se non hai passione nelle cose in cui ti tuffi io o nelle cose che senti sono tue se non hai la curiosità se non hai la prima cosa che dico sempre il rispetto assolutamente ciò che è attorno a te se entri senza giudizio se entri senza forza ma con accoglienza la vita la vita la natura ma da terra tutto quello che è tutte le conoscenze vengono perché si fanno proprio conoscere quindi penso Marco che avremmo un po' di richieste magari cerchiamo per rivederci volentieri volentieri ti ringrazio grazie a voi personale altrettanto grazie Nicoletta grazie Laura grazie a voi grazie a voi e grazie a tutti i nostri amici di Rinascimento Italia che sono rimasti al nostro fianco ad ascoltare cose che io ritengo veramente oltre che interessanti particolari speciali e estremamente affascinanti grazie grazie buona serata a tutti buona sera grazie altrettanto